e ci sono arrivato a 20k porca miseria me l'avevate detto e col vostro aiuto certo merito mio un po me lo prendo perché ho lavorato in questi anni però come mi avete detto come mi avete augurato ci sono arrivato sono arrivato a 20k oggi ragazzi faccio sto video per ringraziarvi cercherò di non tagliarlo proprio così come mi viene non l'ho preparato volevo fare una sorpresa volevo fare dei premi volevo fare qualcosa lo sapete sono sempre incasinato per chi non mi conoscesse io non sono uno youtuber io sono un elettricista che lavora che si spacca il fondo schiena quasi tutti i giorni anche fino a tardi lavoro sabato youtube è nato un po per gioco è nato per passione soprattutto ed è diventato un impegno un lavoro si remunerativo come la mia attività principale purtroppo no quindi io devo lavorare quando tempo se riesco me ne ritaglio anche un po in un'ora lavorativa insomma mi gestisco per cercare di portare un po di contenuti almeno un video settimana magari due provo a farli però è dura vi garantisco che dura youtube quanto mi fa guadagnare poco ragazzi non vi do le cifre inutile parliamo di poche centinaia di euro che nel mio lavoro nel mio settore dove si lavora a 20 30 euro all'ora dipende cioè io mi faccio una giornata di lavoro piano mio e ho guadagnato come un mese di youtube voglio dire non è un lavoro ormai è una passione che va avanti io ci metto l'impegno lo sapete continuo comunque a rispondere anche alle mail dell'assistenza mi faccio in quadro cerco di fare quel che posso magari i video non sono migliorati negli anni così tanto in qualità in tipologia in diciamo collaborazioni non sono riuscito a fare chissà cosa però continuo sul mio percorso cerco di fare video utili cerco di continuare a fare dei tutorial interessanti e ci proviamo ho iniziato gennaio 2020 agosto 2020 mi ricordo che non inferi ho fatto i primi mid iscritti avevo fatto il video del grazie per il primo k di iscritti ero contentissimo il 20.000 è un numero che che già vedevo perché lo vedevo perché quando io ho iniziato a fare i video io guardavo video di altre persone che fanno quello che faccio io adesso che lo fanno ancora che lo faranno che gli auguro di farlo anche a loro per un sacco di tempo guardavo ma lo dico senza problemi guardavo vincenzo caputo guardavo salvorusso perché non conoscevo neanche ancora i sonoff quando ho iniziato a conoscere i sonoff ho iniziato ad applicarli ho iniziato a spiegarli a modo mio e da lì sono andato avanti e io vi garantisco che a parte che non ho nessun problema con nessuno degli altri cioè non li vedo come antagonisti io non vado a vedere cosa fanno gli altri uno perché non ho tempo due perché non mi interessa ma comunque non è corretto ognuno fa quello che vuole ma anche mi copiassero un video dopo che io l'ho fatto e mi hanno detto che è successo ma ripeto non ho neanche modo e tempo di verificarlo ma va bene perché youtube ognuno fa quello che vuole non è che ho inventato io un prodotto e me lo copiano cioè capite non ho nessun problema io con queste persone ognuno fa il suo lavoro con vincenzo ho avuto qualche scambio di opinioni in tutta in assoluta educazione in termini pacati quando c'era stato il problema che avevo pubblicato prima di tutti il video dell'ns panel loro gli altri youtuber non lo sapevano si erano risentiti giustamente non con me hanno voluto avere informazioni penso si saranno poi arrabbiati con i tiad che aveva autorizzato solo me di pubblicare quel video in anteprima ma quello è un altro discorso con salvo non ci ho mai parlato di direttamente né sui social mi sembra di non averci neanche mai parlato ho parlato invece con luigi quello che collabora con vincenzo insomma più o meno facciamo tutti le stesse cose no poi c'è chi si sposta un po su su altre tecnologie altre cose c'è chi più sul fai da te ognuno fa quello che gli pare comunque queste persone io le seguivo non le seguo più sinceramente non sono neanche iscritto ed avevano i numeri che ho più o meno io adesso perché giravano sui 20.000 iscritti adesso uno non ha più di 30 uno non ha 25 ma non è quello il problema io non voglio salire di numero per raggiungere o superare gli altri a me ha dato molta soddisfazione raggiungere questi 20k perché secondo me sono tanti sono sono veramente c'è siete tanti e io io sono contento però se sono saliti iscritti vuol dire che qualcosa di buono in questo tempo ho fatto ne sono contento sono soddisfatto perché vi dico che è un sacrificio è veramente un sacrificio ahimè tante volte sottrago tempo alla famiglia o mi riposo meno perché io mi stanco una certa età sono pieno d'acciacchi mi sono scassato una spalla lo sapete chi mi segue il mio lavoro spesso è faticoso quindi mi piacerebbe anche riposarmi ma ormai è diventata una specie di missione per me perché quando ho tempo devo andare avanti con i video ne ho mille in testa ho una scaletta mi scrivo e quando posso faccio qualcosa sono molto contento perché le aziende continuano a mandarmi un sacco di roba che prima o poi avrò il tempo di pubblicare io guardo di qua non guardo voi perché voi non vedete quanti pacchi ho ancora ad aprire e questo mi rende felice sto ricevendo da un po' di tempo un po' di proposte di collaborazioni commerciali proprio con aziende che magari i video me li pagano ragazzi perché se li devo fare per loro è giusto che un lavoro venga pagato io cercherò sempre di essere obiettivo però mi hanno già proposto di fare video su prodotti di investimento reti vpn tutte robe che a me manco interessano poco c'entrano col mio canale non mi interessa prendere qualche centinaio di euro per fare un video che non serve a nessuno per fare pubblicità loro cioè ve lo dico piuttosto non faccio video per una settimana lavoro di più come elettricista quei soldi li guadagno lo stesso ma rimango coerente con il mio percorso non so più cosa dire grazie 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 massi dattoli a cosa ambisce a nulla ambisco a stare bene spero che stiate bene tutti da qui a non so quanti anni continuerò in questo percorso come ho fatto finora sto vedendo perché magari cambierò location risistemare un po perché inizia tutto questo ad essere veramente stretto per per fare nella quantità di video e la qualità che vorrei quindi sto cercando di riorganizzarmi e boh io sono qua nel mio bunker questa è la mia taverna da qui registro con una telecamera una gopro un microfonino insomma non ho speso chissà quanto di attrezzatura e però sono contento faccio faccio dei numeri che mi danno soddisfazione soprattutto mi danno la forza di andare avanti ragazzi grazie ci vediamo al prossimo video dai perché quando faccio video sembra che parlo tanto ma in realtà parlo poco sono molto introverso insomma qualcuno magari mi ha conosciuto un po più di persona rispetto quello che vedete solo dall'altra parte dell'obiettivo e è buono sono contento grazie a tutti io vado avanti ci aggiorniamo ciao da massidattoli grazie a tutti